massimo ci siamo benvenuto è un grande è un grande piacere vedo alle tue spalle una splendida campagna toscana ma hai detto che abiti vicino a sting è vero lo sente senti suonare ogni tanto magari no c'è degli amici che spesso sono andati lì a portare strumenti o comunque hanno dei rapporti con loro perché spesso e qui ultimamente so che c'è stato tre mesi di fila infatti poi su internet sono usciti i video lì da casa sua si beh comunque sono molto felice di poter raccontare un po la tua storia mi sarebbe veramente piaciuto farlo lì con te di persona era già programmata la nostra intervista nostro incontro però non si può fare in maniera diversa però ti ho preparato delle sorpresine per dare ancora un po più valore a questa a questa diretta tra l'altro mi sono guardato un po il tuo curriculum io sapevo già un pochino quello che avevi fatto però ho trovato un curriculum ufficiale mi sono andato a vedere tutte le collaborazioni che hai fatto dischi televisione colonne sonore hai lavorato al premio oscar mediterraneo hai suonato grandi dischi degli anni 80 90 ce ne sarà da raccontare e poi soprattutto tu rappresenti questa figura particolare perché non sei solo batterista se anche percussionista sei autore e devo dire che conoscendoti un po più da vicino mi sono reso conto di quanto sia creativo il tuo modo di approcciare la musica quindi parliamone raccontami tanto per cominciare come sei diventato batterista percussionista come ti sei avvicinato alla musica e come sei entrato in questo mondo delle session sì allora io ho iniziato da 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 ragazzino sulla quindici anni a prendere le lezioni da un insegnante qui a firenze a prato anzi e da lì poi ho iniziato a suonare e poi sono esplosi in qualche modo gli anni gli anni settanta del progressive internazionale fra cui genesis van der graf king crimson soprattutto e soprattutto un disco è stato illuminante cioè questo che io qui perché mi sono attrezzato che è in the court of the king crimson non so se si vede sì e qui io ho scoperto un grande batterista che ancora oggi per me è una è una guida cioè michael giles secondo me è quello che in qualche modo ha mi ha mi ha spinto poi a a capire certe cose a voler capire certe cose e poi piano piano abbiamo appunto iniziato con questo gruppo a suonare di ragazzi io ho avuto la fortuna sempre di 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 suonare con con musicisti che erano sempre più bravi di me sempre e in questo gruppo di ragazzini comunque c'era il nostro pianista che io saluto si chiama alessandro cavicchi che aveva trascritto tutta la parte del banchetto della pfm perché siamo negli anni settanta quindi la esce il progress e esce anche la pfm una storia di un minuto quindi prima storia di un minuto e poi per un amico e da lì noi ci mettiamo a ascoltare come si faceva una volta in casa appena usciva un disco e appunto tutte le tracce per capire cosa si poteva fare si potevano fare e lui aveva trascritto nel secondo disco mi sembra il banchetto tutta la parte di premolo del pianoforte e ci fu l'occasione per andare a firenze a vederli a etiarutenda perché allora si faceva concerti pomeriggio sera fra l'altro e noi andammo lì e si conobbe la pfm quindi c'era per noi erano io avevo 15 anni si fa e quindi successe che premolo disse ma guarda mi sa che voi siete bravi domani siamo a suonare anzi domani l'altro siamo a suonare a parma perché non venite a parma e ci fate da gruppo spalla cioè ti puoi immaginare se c'è ragazzini di 17 anni e praticamente lì è stato il mio il mio inizio insomma è da lì il tuo inizio intendi che hai cominciato hai cominciato a crederci a dire ma quasi quasi sai che ma dimmi una cosa tu hai detto che hai studiato stavi studiando con un insegnante a firenze stiamo parlando quindi degli anni primi anni 70 immagino anni tu hai avuto la fortuna di perché non erano tanti gli insegnanti in giro almeno intervistando i tuoi coetanei soprattutto i milanesi devo dire perché a milano c'era lucchini pochi altri e poi tutti quelli che hanno studiato con lucchini sono diventati a loro volta insegnanti eccetera eccetera tu hai avuto una formazione valida che ritieni valida con l'insegnante che hai avuto o era proprio un inizio tanto si guarda innanzitutto erano gli anni che girava un sacco di musica cioè io il mio insegnante suonava in un gruppo si chiamava frattino per di stagione che era ancora numero uno di di mogoli di battisti quindi cioè era veramente sia tecnicamente che a livello musicale in generale molto preparato e devo dire che già l'impostazione lui usava già l'open close quindi io già ero impostato non con la traditional ma già così e quindi cioè è stato veramente una e poi soprattutto dal punto di vista sonoro cioè renditi conto che allora le batterie si amplificavano veramente uno due microfoni quindi cioè il suono e la batteria dovevi già avere bello lì e come io dico sempre ai ragazzi vengono da me o comunque se mi capita di parlare di questo argomento dico sempre cioè ragazzi la batteria dovete sentire acustica e da lì se voi avete un bel suono lì poi possono migliorare e da quel punto di vista lì assolutamente sì assolutamente sì poi da dopo subito dopo questa esperienza pazzesca esplosero me l'ho detto gli anni 70 non dalla parte del progressive ma dalla parte di dancing quindi si andava a suonare nelle discoteche allora e quindi ci fu un gruppo lì che per anni ho iniziato a lavorare lì e da sempre in quel periodo lì arrivava un certo punto che cambia strumento cioè mi eravamo mi ricordo a in un locale a fare tipo sala da ballo va bene e quel periodo lì arrivarono i crisalide che erano allora con fausto leale mi sembra e all'interno crisalide poi c'erano dei organizzati alla chitarra c'era fu mauro spina la batteria c'era stefano cerra il basso poi prete alle percussioni e in quel momento lì cioè ci fu per io io già capì che forse mettersi a studiare le percussioni avrebbe portato ancora più più avanti rispetto a quello potevo fare che poi fra l'altro loro poi andarono a confinarti e usci fuori quel disco meraviglioso che è extraterrestre quindi blitz che è un disco stupendo secondo me e lì iniziai a capire più o meno come poteva essere il discorso delle percussioni incastrandole nella sala da ballo tieni conto che allora cioè praticamente se tu facevi un repertorio nella sala da ballo e il repertorio fanno ancora adesso perché ormai fanno sempre i pezzi lì c'è anche nelle televisioni di gira si fa quello ma togli una curiosità ti sei avvicinato praticamente alle percussioni perché ci vedevi un'opportunità anche professionale al di là del fatto che magari chiaramente studiare le percussioni ti avrà fatto diventare anche un batterista più non dico più bravo più consapevole si possono usare sto termine ma io direi più user è un termine ancora più acceso più pazzo perché poi questo c'è ma ha portato quando poi successivamente ho iniziato a fare dischi seri cioè a spiazzare a cambiare carte in tavola in continuazione quello sì ma dimmi in che momento in che momento 66 entrato e come nel giro della discografia come è stato un passaparola hai fatto le audizioni ognuno ha avuto un po esperienze differenti come è stata per te ma guarda tra tutto c'è un passaggio fondamentale io inizio a suonare le percussioni per quei motivi ti dicevo prima ma un'altra cosa importante per me è stato il fatto di vedere uno spettacolo teatrale che è anche lì per certi versi poi sono molto curioso quindi io andavo a vedere a prato abbia la fortuna di vedere il mimo l'insight camp in flaua che era uno spettacolo pazzesco e all'interno di quello spettacolo lì di teatrale c'era solo un musicista suonava e c'era un percussionista giapponese che io mi ricordo si chiama io girota che praticamente lui metteva le basi già allora poi suonava sopra faceva gli effetti e io rimasi flashato e contemporaneamente fra questa cosa qui e il fatto che sempre in quel periodo da vedere gaslini pianista e con obbi andrea centazzo che era un percussionista ibrido allora perché suonava una batteria tutta fatta di cose particolari e comprai un libro che mi sono attrezzato c'è anche questo che è praticamente strumenti a percussione eh giro un poche strumenti a percussione eh guarda non lo so come poter fare comunque strumenti a percussione credo sia un libro guarda uscì questo nel 79 quindi e qui praticamente era il primo libro dove ti insegnava la differenza fra metallofoni fra tutta la parte del della percussione e grazie a questo e arrivare alla ufip perché la ufip era a pistoia anche vicino a casa mia però ecco lui che aveva fatto un lavoro di ricerca andrea centazzo aveva fatto un lavoro di ricerca su tutti gli strumenti a percussione in tutto il mondo aveva riportato questa sua esperienza all'interno di questa fabbrica di maestri piattai pistoiesi ecco fermo lì fermo lì che ti faccio la prima sorpresa sei pronto occhio cosa ti do eh occhio ragazzi via buongiorno corrado io sono luigi tronci il presidente della ufip unione fabbricanti italiani piatti musicali pistoia e qui ho saputo che tu hai in programma di incontrare il nostro caro amico comune massimo pacciani e con noi da tantissimo tempo come come amico e come musicista importantissimo questo tempo trascorso con lui è stato di reciproca utilità ed è un professionista serio e eh attento a tutte le cose che riguardano il mondo della musica tanto è vero che ci siamo anche avvalsi spesso di di prendere in esame e suggerire ad altri musicisti questo bellissimo manuale riguardante l'uso soprattutto della batteria quindi accenderà comunque la batteria e i piatti musicali sono anche strumenti a percussione ti voglio dire corrado che io eh ho invitato massimo a visitarmi e come pure faccio con te perché io poi dopo tantissimi anni di di lavoro in questo settore eh in onore dei miei antenati e di quello che è la che è la UFIP ho fondato eh una fondazione specifica riguardante la storia della musica e le percussioni a Pistoia ti ringrazio per l'attenzione e ti saluto caramente grande Gigi eh grande Gigi eh eh loro sono stati lui lui e anche Damiano suo figlio per me sono stati veramente anche una un modo per 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 scoprire certe cose e collaborare con loro ad altri eh poi loro sono veramente fantastici quindi è anche la fortuna averli qui vicino certo ma toglimi una curiosità ehm tu hai quando hai cominciato con le percussioni da che strumenti sei partito come eri attrezzato cioè che trovavi le percussioni che cercavi a livello proprio di che ne so di negozi di disponibilità com'era in quegli anni là ma guarda allora stiamo parlando degli anni settanta è sempre incredibile però ce la vuol dire allora io vi di mi sono un discorso di 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 tanti modicisti usavano degli strumenti allora c'era delle marche anche italiane o francesi facevano però a un certo punto c'è fuori lato in percussion allora io ho preso subito le congas lato in percussion e però a o a parte quelle cose lì in Italia ti tieni conto che non c'erano negozi di di specifici per batteristi come poi dopo sono nati vedi moches dopo negli anni eh Paolo che è un grandissimo amico che poi parleremo anche di lui ma c'è vuol dire lì io abbi la fortuna però già all'inizio degli anni ottanta di fare una turniera america e andare a new york e io diventare mattoli perché c'è c'era una negozia ma andai in quella famosa mi sembra fosse la quarantaduesima strada cioè dove c'era il pieno di 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 negozi di strumenti musicali e lì era il paese dei balocchi e mi ricordo comprare due valigie e seppai di roba quindi bongos cose che poi e piano piano da lì capito iniziò a questa questa cosa e poi è sempre più cresciuta fino alla fine ma ancora adesso cioè non ha una fine alla percussione realtà è quello ecco perché mi piace in particolar modo essere attento a quei tipi di sonorità che mi hanno aiutato e nei dischi c'è pieno cioè nei dischi che ho suonato io c'è pieno ecco arriviamo un momento all'aspetto discografico perché tu poi a un certo punto negli anni ottanta hai cominciato a lavorare veramente nelle produzioni importanti hai lavorato dei dischi e dei brani che sono cioè che tutti conosciamo come è stato il tuo ingresso lì se sei entrato come batterista come percussionista o come entrambi proprio perché avevi questa doppia figura che ti dava valore come è stata lì c'è stata una persona o degli episodi che ti hanno tirato dentro in qualche modo ma sono assoluto il fatto che io iniziai a contemporaneamente a collaborare con il film con il cinema e quindi conoscendo Francesco Nuti io iniziai prima come autore a fare le prime tre colonne sonore non solo un percussionista e batterista ma anche come autore i film madonna il silenzio c'è stasera io chiaro all'oscuro e sono contento in realtà io sono autore all'interno gruppo si chiamava barluna di delle colonne sonore poi negli anni ho continuato a lavorare un francesco fino a purtroppo a quello è successo ma tipo il pezzo di sanremo sarà per te l'ho suonato io per dirti cioè quindi c'è ho iniziato lì a mettere capolino a cia fa capolino nella negli studi e poi ho avuto la fortuna nell'86 di conoscere Giancarlo Bigazzi tramite Dado Parisini e quindi Raffaele quindi Raff e abbiamo iniziato da lì a fare i dischi e per me è stato il passo quello quello che uno spera sempre che accada io mi ricordo cioè che il primo giorno di studio mi fecero fare un pezzo fra l'altro anche abbastanza difficile che si chiamava ed era un pezzo di mi sembra di currieri e di grandi che era l'aeroplano mi sembra e che io mi inventai già lì e li mandai fuori tutto un Charleston praticamente fatto tipo alla Copeland cioè tutte cose strane e poi ci sono la batteria sopra e io rimasero capito cioè il batterista fino a perlomeno loro cioè vuol dire persone intelligenti quindi cioè capivano subito però ecco trovavo un ragazzo che ti arriva lì e ti fa una roba del genere e poi va sulla batteria e ci suona sopra dicevo dire che questa ha pensato prima di fa quello poi fa quello quindi non è un batterista cioè né né all'interno no quello che è una batteria musicale più alto quello che intende dire tu sì quello volevo dire esatto sì mi sono intrecciato però quello volevo dire e disco dopo fu cosa resterà degli anni 80 quindi cioè contemporaneamente su cosa resterà degli anni 80 sono dei pezzi fighi anche lì per esempio tutta la parte queste sono cose che non si sanno cioè se tu senti cosa resterà degli anni 80 tutta la parte di introduzione va bene sono tutte percussioni vere a parte qualche cosa elettronica tipo i buoni e poi parte la batteria va bene poi succede che succede e in tanti dischi è stato così cioè di ricreare quell'atmosfera lì e poi suonarci sopra lì in quell'anno lì sempre no no vai vai scusa poi ti voglio fare una domanda su come registravate ai tempi perché anni 80 tu eri già nella fase dove andavi c'era il metronomo sovrincisioni o registravate insieme proprio così un cenno storico su come lavoravate in quel periodo allora mi sono riattrezzato questo disco qui che lo vedi sì allora questo è un castro caro del 1981 dove in questo castro caro qui che quelli li ho fa per la prima volta forse ho fatto come si dice no i session ma come come si usa dire perché allora c'era uno studio a firenze si chiamava natali e in questo disco qui questo è proprio il castro caro dove da qui esce fuori ramazzotti perché c'è ramazzotti e c'è fuori ramazzotti zucchero poi esce fuori vabbè stefano sani poi esce fuori sono c'è un sacco di gente poi ha fatto successo tanto fiordaliso qui ce n'è una valanghi gloria nuti che è una mia amica quindi anche poi ha scritto il mare calmo della sera quindi tutti questo disco qui lì c'è la batteria residente come diceva alfredo avevo visto l'altra volta entravi lì dentro e facevi veramente ecco questo è stato l'unico episodio che che io ho vissuto in quel modo lì da lì in po e senza click perché qui non c'era il click invece mentre invece quando iniziamo già nell'ottantasette lì click c'era clic c'era assolutamente assolutamente sì e c'era già il click e comunque mi ritrovai a fare il disco il primo disco che è svegliarsi un anno fa di raffaele con un fonico tedesco con un tecnico del suono tecnico del suono tedesco che sì che si chiama penso sia ancora lui rudolfo e per la prima volta nel 86 io usai i ca i campionamenti perché lui era abituato come lavorava a moroder ci era abituato a lavorare o coi dain accordo uscì quel periodo lì tipo il roland pm 16 mi sembra si chiamasse una roba quindi io sempre poi smanaccato ascolta visto che siamo a fine anni 80 te ne do un altro di tuo amico che mi ha lasciato un commentino sta lì un secondo che arriva ciao corrado intanto ti ringrazio per l'invito è un onore per me è un piacere parlare di massimo facciani ho incontrato professionalmente massimo alla metà degli anni 80 e durante dei tour con raffa con tozzi l'ho poi conosciuto in studio e durante il la registrazione del disco del primo disco del primo lp di marco masini per arrivare poi a prendere in considerazione la professionalità di massimo circa la mia designazione di ingegnere del suono per il disco di carboni che era persone silenziose massimo è un percussionista batterista ma è un tutt'uno perché lui suona la batteria ma un percussionista e fa il percussionista come un batterista è una persona dotata proprio nel suo dna di una percentuale di un tasso creativo che poche volte ho riscontrato in tutti i personaggi che ho frequentato durante la mia attività di produttore ed ingegnere del suono cioè dette da lui voi guarda siamo nel pezzo lavorare con fofo bianchi deve essere stata una bella esperienza visto che parlavi di tecnici del suono in questo caso anche produttore perché lui raccontava che in quel periodo comunque aveva deleghe anche oltre semplicemente il sound engineering no in questo senso quel disco cosa rappresenta per te il disco di carboni che ha citato rappresenta un innanzitutto cioè quel disco lì sono me è veramente un disco fatto bene forse uno dei pochi dischi che io ho fatto dove si suonava in diretta perché lì io sono le percussioni siamo nel disco nello studio di dalla quindi di malavasi a bologna conosco perché me lo fa conoscere fofo cesare chiodo per la prima volta e alla batteria c'era gianfranco fornari che era un batterista pazzesco proprio a me piace tantissimo e iniziamo a fare questa cosa con carboni che erano un periodo veramente fantastico cioè proprio siamo stati bene c'era un clima disteso anche se poi non c'erano di tanto c'era dei batti vecchi con dalla tra carboni dalla ma qui vanno a fare loro però non siamo stati veramente bene e si sente sul disco cioè quando i dischi hanno una magia intorno non c'è niente da fare e infatti ancora oggi sono mio un disco pazzesco e per me questo disco qui che mi traghetta poi diciamo così al disco successivo e alle cose farò successivamente è stato un passaggio fondamentale poi sai con con fofo io ho fatto anche comunque mediterraneo che poi ne parleremo dopo e ho fatto anche un altro film importante che è ragazzi fuori di marco risi che comunque vinse il nastro d'argento come miglior film anche quella ma parlamene parlamene pure adesso di questo di questi di queste esperienze cinematografiche comunque sono un'altra cosa ancora della tua attività no cioè mediterraneo ha vinto l'oscar un film importantissimo come lavorare in quel tipo di contesto cioè tecnicamente com'è che funziona tu vai lì vedi il film devi trovi devi hai delle parti devi trovarle tu spieghiamo un attimo qual è il processo mediamente quando lavora in quei contesti o come è stato in questi film così importanti che hai citato ma guarda allora cioè sono cose diverse io già più o meno sapevo che funzionava perché avendo fatto come dicevo prima con un sonore anche un motore più o meno capivo che funziona i minutaggi gli m quindi in base alla scena del fai un tot di minutaggi poi sai ci sono diversi sistemi è chiaro se lavori con un morricone che porta la partitura lì la suoni e via qui era più un discorso creativo che in generale è sempre stato quello che per lo meno fino a un certo punto della mia carriera cioè è stato predominante per me il fatto di di trovarmi delle situazioni ma la maggior parte le situazioni e di dare il mio contributo è stata la cosa più più stimolante cioè io credo una cosa ma la sono anche scritta perché perché la voglio dire bene cioè c'è una massima che secondo me David Bave ha detto è che questo nome è illuminante su questo lavoro cioè lo dice se ti senti al sicuro nell'area nella quale stai lavorando non stai lavorando nell'area giusta devi sempre andare più avanti quando senti che i piedi non toccano più in fondo allora sei nel posto giusto perché accada qualcosa di stimolante cioè questo io sempre creduto grazie cioè poi ti può portare anche cioè voglio dire ti può portare anche dei 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 macelli a volte a me sono successi anche quelli però comunque il fatto di anche gli strumenti che poi parleremo anche di quello cioè hai una batteria che suona e dopo un po' io mi stanco cioè se suona bene ho fatto due dischi ok vabbè cambiamo cioè facciamo un altro e lì poi si entra un'altra cosa cioè non sono uno parlami degli strumenti che parlami di questa cosa gli strumenti che ti portavi so che tu sei appassionato cambiavi molto forse mi hai raccontato in una telefonata tempo fa che c'erano dei dischi dove cambiavi le pelle ogni pezzo tanto per provare cose nuove hai lavorato anche sui tuoi set personalmente cercato di sviluppare delle opzioni sonore e anche lì poi c'è una cosina da farti vedere anzi dai te la faccio vedere subito te la faccio vedere subito guarda come mi sono attrezzato grazie per questo invito massimo venne da noi nel lontano 1993 in una tappa a bergamo per il pretour con raff da quel momento lì è cominciato un lavoro spalla spalla abbiamo lavorato innanzitutto sullo sviluppo di dimensioni più grandi degli dei diametri che fino a quel momento li stavamo realizzando e abbiamo lavorato assieme anche su sistemi di sospensione dei tom i famosi rims e facendo poi tutta una serie di test e prove che ci portarono poi a fare delle scelte ben specifiche per quanto riguarda poi l'applicazione alla nostra produzione massimo batterista di riferimento nazionale per quanto riguarda il pop per un portamento che è stato poi anche riconosciuto a livello internazionale se uno smanettone massimo la smanettone la smanettone poi dopo capito cosa voleva dire anche nazionale poi dopo se lo dio cioè l'internazionale perché poi assi lo ferrone perché era a fare una fiera con con le soprano e allora a un certo punto mi vede arrivarsi il ferrone che scopo avevo fatto i rischi della pausini voleva vedere chi era chi faceva i rischi della pausina e in quella cosa lì lui mi disse mi posso suonare la batteria per cui si bisogna suonare e ferrone c'è una roba c'è chi a raccontarla oggi sembra neanche vera però ecco questo è quella roba lì sì lui ha ragione marco perché comunque cioè io arrivai lì che noi eravamo nel capannone di pulico a fare le prove lì a bergamo e perché ero incuriosito avevo letto su una rivista non mi ricordo neanche quale che c'era uno che faceva le batterie da lì in realtà gli trova le batterie con con misure jazz cioè vuol dire cassa della 18 ma scusa ma tu tipo una cassa della 22 no no ma io le faccio ma un timbro da 16 lo faccio sì sì lo fa poi dopo io sono a sapere lui le faceva proprio capito per cui cioè abbiamo iniziato lì tipo come rullante da 10 non lo faceva e diceva ma mi può fare un rullante da 10 e poi si è misa a fare anche quelli lì che ce l'ho ancora fra l'altro è bellissimo e quindi sì sono tutte cose che poi per la mia curiosità cioè certo la ricerca che ha portato in giro quello e qualche aneddoto qualche aneddoto in studio qualche aneddoto in studio della della ricerca dei suoni dello strumento con i fonici con gli artisti c'è qualche momento chiave qualche brano qualche disco dove sei particolarmente orgoglioso del suono che hai proposto sì devo dire cioè io ho avuto la fortuna di di avere sempre delle produzioni in un certo livello cioè me le sono anche cercate per certi versi perché magari citiamo alcuni artisti ci sono già nei commenti ma te li leggo dopo perché tu in quel periodo hai fatto marco masini tozzi irene grandi laura pausi cioè hai fatto un sacco di artisti che in quel momento erano veramente fortissimi e tra l'altro hai fatto proprio i dischi forse anche i dischi più di successo di alcuni artisti o i singoli che sono rima veramente ha fatto dei pezzi clamorosi ecco raccontami qualcosa di quelle studenze in studio ma guarda io sembrerò monotono ma io devo ringraziare tanto raffa perché comunque cioè mi ha dato la possibilità di è un altro ma che ma sempre lui e paesini che era il produttore stato il produttore per un periodo cioè mi hanno sempre portata il limite cioè i pezzi erano difficili cioè se tu vai a risentire oggi interminatamente va a risentire la versione di due non quella che fu fatta la seconda versione ma la prima versione due c'era veramente robe difficili da suonare quindi cioè ero sempre spinto a al massimo e questo è la famosa adrenalina ti dicevo prima no cioè che tu non pensi di mettere i piedi e non li tocchi e però lì ti se ti abito a quello lì ti dici vabbè ma ce la faccio anche stavolta e lì loro sì cioè loro mi hanno portato a vedere la musica proprio anche in quel modo lì anche il mio modo di suonare e questo ha fatto sì che allora nel disco di raffaele non stiamo parlando allora nel 90 sì nel 90 no mi sembra 91 esce sogni che c'è interminatamente appunto c'è oggi un dino no c'è perché lui va a sanremo oggi un dino no tieni conto nel 91 cioè io suono quel disco lì ma contemporaneamente lui va a sanremo e va a sanremo anche masini con perché lo fai comunque va a sanremo anche gli otti con tozzi con gli altri siamo noi e li sono tutti e tre cioè mi ritrovo capito da un certo punto mi fanno ma con chi va in tournée con lui con lui e io lì c'è tra l'altro quando facevi tour in quegli anni facevi la stessa no dico quando facevi tour in quegli anni stavi via un anno non è che come adesso che fai una tournée di 30 40 ma guarda raffaele no perché raffaele è sempre stato più orientato verso il lato io lo capisco c'è più studio di registrazione più lavoro insomma in quel modo lì e quindi c'è io ho perso anche i soldi non facendo la tournée di tozzi in quell'anno perché comunque mi sembra i tozzi ne fecero una forse il doppio di noi però quel disco lì e quella tournée lì con cantini a cocco cantina e sax con parisina le trastiere c'è c'era un sacco di castellano c'era alle chitarie stefano allegra e basso bravissimo cioè c'è un sacco veramente di musicisti e poi dopo hanno hanno spiccato il volo e sono andati in altri lì però ecco quella tournée lì avevamo le coriste di coso di rispandà o ballè cioè capisci era veramente una roba e lì è stato un cambiamento cioè lì è stato veramente e da lì poi mi hanno iniziato a chiamare tutti e non a caso poi dopo io faccio la pausini faccio tutto tutto dopo il disco lì capito ma senti poi a un certo punto tu hai fatto anche dischi con i con altri grandi batteristi italiani dove tu facevi la percussione no per esempio è lavorato con alfredo visto che la città vi so che avete lavorato cioè lavorare un po con tanti come è stato rapportarti con altri i nomi così importanti e le melotti immagino che aveva fatto con lui o nei dischi non c'era o non c'era una sorta di competizione dal tuo punto di vista o c'è sempre stato un rapporto dove si imparava vicenda per così dire guarda loro fanno parte di non alfredo ce l'hanno più di me lei mi sembra ce n'abbia qualcuno in più ma insomma più o meno siamo coetane cioè no perché loro hanno iniziato a fare questo lavoro in quel modo lì prima di me e hanno fatto quando quando tu io sento ogni tanto sento tu parli di turnisti loro veramente erano i turnisti io no io non mi sento un turnista non sono mai stato né lo voglio essere non lo sarò mai cioè io sono uno che entra dentro una produzione e scoppiglia i giochi e quello mi piace cioè sono successe le cose nei dischi cioè allucinanti a volte per cui cioè questo mi piace loro da loro ho preso diciamo il come da altri il fatto della specialmente all'inizio della loro concentrazione in studio tipo uno che mi ha veramente sbalestrato perché io ho fatto quel disco dopo di raffaele è stato cannibali che io sono suonato tutti i disco in cannibali solo un pezzo non sono nato io e hanno chiamato gavin Harrison che sotto non sa dove dei baglioni allora e la torna di oltre e veramente era spaziale io già lui l'avevo sentito perché mentre io era a fare sogni da renato cantele che saluto allo studio morning studio renato mi fece vedere perché aveva filmato gavin Harrison che aveva rifatto la il rifacimento di extraterrestri di finardi lì c'è veramente una roba spaziale e poi l'ho conosciuto cioè lì a modena se io l'ho conosciuto a modena lui ha suonato in cannibali e lì mi ha flashato perché c'è un take e quello era ma con intensità e una potenza anche a livello sonoro allucinante cioè gavin ha una pacca che ti sdarena al di là della tecnica di tutto quello che tu vuoi della concentrazione e alfredo per altre cose mi ha insegnato altre cose perché mi ha insegnato in un certo modo di suonare vedendolo suonare ti sto parlando poi parlando insieme siamo amici per l'amor del cielo però vedendo suonare alfredo ma mi ha fatto capire altre cose lele me le ha fatte capire altre e da lì ho capito che dovevo andare da un'altra parte a maggior ragione cioè non mi potevo buttare in quel terreno lì capisci cioè io tieni conto che già tipo con con alfredo mi ricordo eravamo lì da acqua pendente da 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 cesare chiodo a fare il disco avevo apparecchiato già tutta una roba di percussione e non finiva più e ci si faceva gestire fra un take e un atto ci si metteva a suonare cioè adesso sembra cosa sembra cosa assurda ma era così e ci si divertivamo e dei pazzi quindi era il clima secondo me la cosa importante poi è successo sì di suonare con altri tipo sono stato chiamato a fare il disco quello ancora dopo di raffaele che è manifesto e lì cavolo c'era natanist no scusami c'era pino palladino sony levin e nel conti che era cioè vuole dire e lì è un'altra bella legnata raccontami questo rapporto con i grandi musicisti stranieri che hai trovato in studio toni lecce con questi bassisti questi musicisti come è stato cos'è cosa hai trovato diverso guarda io ai musicisti hai suonato anche con steve ferrone poi come percussionista se nel disco di laura incancellabile ma guarda io te ne prendo uno che 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 li vuole tutti e poi capo di tutti che è natanist cioè quando quando poi arriva a questi personaggi e e ci mangi no la sera insieme perché poi alla fine e ti racconta e ti dice io a 16 anni suonavo con barry white e te lì veramente ti senti cioè ti senti verrà al di là di quello che ha fatto dopo cioè lui mi ricordo che il disco lì della di laura aveva fatto tipo l'anno prima due anni prima aveva fatto i dvd di eric lepton quello in acustico cioè e quindi che devo dire poi lo vedi suonare e fai vabbè se è così è tutto diventa tutto più facile veramente diventa tutto più semplice di quello che si che si mi ricordo in un pezzo di quel disco lì c'è un pezzo si chiama la voce che è un 12 ottavi e in questo 12 ottavi io in quel periodo io sentivo porcaro proprio a bestia proprio c'è poi mi è sempre piaciuto mi piace ancora però ecco cioè porcaro secondo me è veramente l'essenza del pop cioè io sono mi sento un batterista percussionista pop per cui cioè io amo quel modulo di suonare quell'approccio lì alla canzone soprattutto e a un certo punto in questo 12 ottavi gli fa tipo due colpi che che li faceva sempre c'è l'uvi fa chef così capito quindi basta e finisce lì c'è lì poteva anche andare via anche se non mi pagavano capito per me eri già contento belle cose sì senti poi negli anni 90 degli anni 2000 in poi hai cominciato a lavorare io so che lavorai da tantissimi anni con fiorello anche prima prima del passaggio lì c'è allora tournè con innanzitutto con laura pausini che è un tour mondiale si negli anni 90 che hai detto che come è stato praticamente tu hai fatto il disco sei stato anche sei stato anche autore di cosa hai fatto dopo come raccontami con laura pausini come sta allora io allora con la laura allora io ero a fare il disco di raff e in quel periodo lì la cgd doveva mandare a sanremo come spesso succede insomma gli emergenti arriva sta ragazza tieni conto che non neanche mai vi c'è non avevamo neanche mai vista sta ragazza noi si sono a quel pezzo lì tra un tra praticamente un tec no neanche un tec rimase lì un giorno più mi sembra rimase lì un giorno più avevo finito una roba e rimane un giorno più gianni salvadori che era il tecnico che sono lì e produttore e non produttore era arrangiatore di quel disco lì del primo disco di laura diceva c'è da fare questa cosa qui perché allora si faceva solo un pezzo poi dopo si andava bene si faceva il disco e quindi si si registra questa cosa e e poi rimango studio perché mi ritorno un po di tempo dopo e vede questa ragazza che va di là e canta dice vabbè questa ciao queste le anni massacra tutti e infatti poi fu così poi disco dopo e poi fecero un mix di questi due dischi in lingua spagnola e lì lei proprio esplose in sud america e disco ancora dopo che è incancellabile lì io feci praticamente tutte le batterie anche lì insieme a ferrone sembra ferrone sono su tre pezzi su due o tre pezzi e e poi faccio la tournée che è una tournée mondiale quindi io praticamente un anno di tournée fra fra promozione disco tournée sud america e tutto poi in quella tournée lì io mi invento insieme a eric buffat è un'emergenza d'amore che che come titolo e poi diventerà un singolo per il disco successivo lei dopo quindi divento autore anche a livello insomma di canzoni internazionali e da lì insomma c'è il mio battesimo di autore internazionale questo è insomma la fine quindi c'è la storia di laura poi ci siamo rivisti vai 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 massimo vai ci siamo rivisti poi tanti anni tanti anni dopo perché ho suonato anche intratte il mare il pezzo poi di di laura che il primo pezzo di da biaccio e quindi niente c'è ogni tanto la trovo in trasmissione da fiorello insomma così l'ho trovato a morandi nel 99 nel 99 nel fine 90 poi c'è questa questa cosa qui sì che io c'è in qualche modo mi rendo conto sempre per quel discorso lì delle gambe da penzolare e non devo mai impuggiare che forse è l'ora che io cambi direzione cioè nel senso ho fatto a quel punto lì una malanga dei dischi ho scritto le canzoni ho fatto tutto di adesso cosa si può fare aspetta un attimo che prima di chiudere questo argomento io c'ho ancora un paio di anici che raccontano un po il tuo percorso anni 90 stai lì un secondo che te li mando stai lì stai lì stai lì stai lì ciao corrado sono simone papi e volevo raccontare anche questa grandissima avventura abbiamo fatto nel 95 per il disco di raff manifesto dove io ho partecipato per la prima volta insieme a raffaele alla realizzazione degli arrangiamenti dei dischi e ci siamo avvalsi di massimo come batterista e come percussionista e oltre a lui altri musicisti che facevano parte del gruppo di raff tipo stefano allegra e poi tutta una serie di musicista a livello internazionale tipo toni levin pino palladino la peculiarità di massimo è quella che ha sempre avuto una visione artistica del del mondo musicale non l'ha mai subito a certe cose si è imposto lui con la sua personalità artistica su tutto quello che faceva sia a livello creativo sonoro che a livello musicale proprio perché comunque aveva una sua personalità e ha una sua personalità molto forte per cui questa personalità viene fuori anche nei dischi per cui ecco c'è per me sta con piacere un onore collaborare con massimo e spero il prima possibile di rifare qualcosa insieme carino si lavora anche con lui è nei fatti tanti esperienza sì sì c'è lì mi ricordo questa cosa che eravamo in studio eravamo io cesare chiodo lui e poi c'era vabbè raffaele poi dopo gli altri vabbè che si alternavano pensa te che quel disco lì pensa quant'era avanti raffaele cioè il primo disco praticamente con un inserto multimediale cioè manifesto esce fuori con un doppio cd dove c'è la praticamente la parte musicale e la parte praticamente audio video e lì si vede Tony Levin che palladino cioè io nel mezzo esatto sì il primo disco fatto e lì è stato un regalo che ha fatto anche a me insomma cioè vuol dire di mettermi insieme a questi mosti sacchi questi musicisti pazzeschi oggi ho visto suonare Tony Levin mi hanno mandato video perché è uscito questo nuovo disco Liquid Tension Experiment dove suona con mezzi Dream Theater Mike Portnoy 74 anni a Tony Levin ti spacca ancora in due ma toglimi la curiosità allora adesso poi ti vado a leggere anche un po' di commenti è perché qua ce n'è ancora tanti ma voglio che mi racconti anche un po' di Fiorello ma ragazzi tenete un attimo duro perché questa è una bellissima da raccontare secondo me vale la pena aspettare un attimino a fare domande botta risposta così concludiamo anche un po' il racconto della tua carriera io mi sembra di intuire che tu sei un musicista molto aperto so che ascolti molti musicisti nuovi che hai un'idea anche abbastanza chiara della batteria che ti piace di quello che ti influenza abbiamo sempre parlato del passato no? quella che è stata la tua storia i grandi batteristi con cui hai lavorato però so che tu sei uno che guarda avanti c'è chi chi è che ti piace oggi nella batteria magari anche nella batteria italiana se c'è qualcuno che veramente ti ha così ti ha toccato sì allora bella domanda è interessante e appropriata allora per quanto riguarda gli italiani c'è quello che io trovo più interessante adesso e per certi versi mi somiglia sta attento non perché suona come me perché la mentalità è quella di far cose un po' storte è Jacopo Volpe che suona con Salmo cioè lui secondo me è veramente uno che se ne sbatte e suona c'è capito? è così bisogna fare cioè alla fine e non è facile perché comunque pensate che praticamente è l'avanzamento di quello che potevo fare io o quelli della mia generazione allora cioè allora c'era i cantautori adesso i cantautori sono loro cioè sono Salmo o chi come lui che fa quel genere lì quindi entrare dentro con quella potenza lì con quella come ti posso dire e con quell'estro lì non è facile un altro è Donald Renda che mi piace molto e io consiglio a Giovanotti il prossimo batterista di prendere lui perché è veramente forte e secondo me con Saturnino e l'Onori farebbero una ritmica una bella ritmica perché cioè Donald adesso penso sia maturo sì sia maturo per affrontare non solo quello ma per farci una carriera proprio tranquilla tra l'altro lo seguo nei suoi canali e fa sempre cose interessanti un altro invece che a me piace molto soprattutto per il progetto che ha insieme all'altro è Filmer cioè Filmer con i framers come cavolo si chiama i framers cioè esatto cioè secondo me secondo me fa delle cose veramente fighe cioè proprio l'ascolto molto volentieri a dirà vabbè che tecnicamente è bravissimo cioè queste sono cose sappiamo ma non mi interessa cioè non mi interessa né la tecnica né se sposta non me ne frega nulla cioè mi interessa l'idea e il progetto che ha e l'idea e il progetto che ha secondo me è molto molto forte quindi vi faccio i complimenti questo per quanto riguarda la cosa italiana per poi gli stranieri io cioè sono stato uno dei primi estimatori di Riccia Spaven perché mi piace perché è un produttore perché è tutto il mezzo storto cioè quindi lì siamo già da un'altra parte Giri Beck che comunque Giri Beck è veramente pazzesco per un ragazzino che è veramente allucinante e nei quelli più tradizionali perché mi piace come suona in modo tondo che ha di suonare e sembra non faccia nulla però comunque ha un gusto pazzesco andatevelo a vedere è Carter McLean Carter McLean è un insegnante pazzesco ha un suono pazzesco ha un suono pazzesco e dà un'inventiva lui per esempio questa è una cosa che io consiglio di fare ai ragazzi fa una cosa intelligentissima tipo prende su internet degli spezzoni di video di gente anche conosciuta tipo io ho postato una cosa tempo fa di un gruppo ora non mi ricordo come si chiama sono in due, sono acustici e lui prende ci mette una batteria sopra e se la inventa ed è pazzesco cioè questo secondo me è la possibilità che dà internet a livello veramente intelligente cioè è inutile il mio consiglio è è inutile che vi prendete il pezzo che ho suonato io da altri con il computerino Pijate Play cioè che è tristissimo cioè vedere il batterista e il computer però io capisco andatevi a scovare queste robe qua cioè inventatevi in modo di suonare in internet con altri che non magari tu suoni con uno che è in inglese o americano e quello poi ti vedi diciamo aspetta fa una tournée chiamo lui cioè secondo me adesso deve funzionare così io sposo totalmente quello che tu stai dicendo tra l'altro tu hai citato Jacopo Volpe che io ho intervistato che è un batterista bravissimo e tra l'altro secondo me è il primo di un certo modo di suonare la batteria che lui l'ha capito forse prima di altri io credo che si possa affermare tranquillamente questa cosa dove lui non si è piegato a suonare determinate cose se l'ha inventata un po' questa cosa qua e ha sfruttato delle opportunità non solo online che sia chiaro questo lo spiega bene nell'intervista però lui voleva proporre questa cosa se l'è creata ha usato molto il web ha usato molto anche i rapporti personali quindi secondo me Jacopo è veramente il batterista moderno poi come lo è Phil perché anche Phil fa la sua storia c'è le sue cose poi Phil comunque può lavorare in tantissimi contesti però giustamente tu dici a me piace in particolare in quel progetto dove lo senti veramente che si scatena io ti metto in sovraimpressione questa domanda di Gianluca no aspetta aspetta però dimmi dimmi aspetta però io ho detto una cosa ho detto cioè mi piace perché poi lì lui è anche autore cioè non è solo c'è capito batterista per cui mi piace quel progetto lì perché lo vedo ah ok non conoscendo poi la situazione lì ma dalla parte lo vedo io vedo una parte creativa oltre alla parte del batterista ecco per quello sì 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 poi sai che Phil non so se tu lo conosci ma Phil è proprio un artista quindi è proprio c'è quella mentalità lì Gianluca appunto no 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 questa domanda ci siamo sentiti perché dice appunto dove sta andando la musica e quando un nuovo rinascimento ma io ti faccio sta domanda secondo te serve un rinascimento cioè nel senso non è che semplicemente la musica va avanti continua a cambiare e chi non lo accetta rimane indietro perché voglio dire anche tu che vivi la musica da voglio dire da quando sei da 40 anni 50 anni da quando la ascoltavi ne hai viste passare di epoche non è che ogni 10 anni si può dire ma era meglio prima cioè tu vivi un po' con questa sensazione che quel bel passato è finito oppure bisogna accettare il fatto che la musica è cambiata e continuerà a cambiare e bisogna accettare l'evoluzione sai io credo che allora ci sono due cose allora la prima l'affronto questa domanda la divido in due la prima l'affronto la prima per un fatto di suono per esempio sulla batteria che è una cosa che ci riguarda cioè se tu vai a vedere il rullante che va di modo adesso è un rullante degli anni 80 è un panettone così cioè fino a che poi uscì fuori Copeland disse signori non funziona così ora ve lo faccio vedere io e tirava delle schioppettate pazzesche il rullante e cambiò fino allora si pensava il rullante buono fosse ora siamo ritornati là sono fasi a me una volta Giancarlo Bigazzi buonanima mi disse vedi Massimo cioè la musica gira no non devi stare intorno alla musica tu stai fermo e vedrai prima o poi passa cioè l'importante è che tu nel momento che stai fermo sai cosa devi fare questa è la cosa importante perché tanto prima o poi gira e quando gira ti sei pronto e il famoso discorso ti facevo prima poi mi sono perso il primo turno con Raffa allora il primo giorno di turno con Raffa che è stata una roba pazzesca entriamo dentro io il bassista un ragazzo così io rimasi lui ha il secondo te che era a casa perché probabilmente ero pronto e lui no cioè capisci la cosa importante è capire questo tu studia come dice sempre Alfredo Golino devi avere un'infarinatura generale della musica perché se si arriva a certe cose cioè se adesso la batteria la suoniamo in un certo modo è perché c'è stato un passato nella batteria quel passato lì beh non male lo devi conoscere poi magari non ti appartiene come per esempio a me i jazz non mi appartiene io sono nato quando le trasmissioni parleremo anche di questo la big band ma è un linguaggio non mi appartiene cioè non è una cosa che io a me piace fare mi ci sono trovato e anche spesso in difficoltà pazzesche cioè capito veramente me l'hanno ripreso sui miei capelli con la examinazione lasciamo perdere ma arrivò la partitura che ci si fermò tutta l'orchestra e io in primo cioè lasciamo perdere il segno della croce ti sei fatto sì dopo il segno della croce e via per i pari e quando ti arriva poi Bublé fai i pezzi di Fancy Nature c'è con l'aiuto la batteria nel disco te li studi prima e c'è chi ti arriva preparato sono fasi cioè voglio dire e lì si ritornano sempre i famosi piedi penzoloni perché te li ritrovi prima o poi ma scusa ma tu non ti sei mai bruciato con questa e questa è la prima parte scusa finisci la risposta poi ti ti faccio questa domanda no no ma certo perché tu agendo così passi da tipo ti porto due esempi il primo esempio è mi sembra nella prima trasmissione di Fiorello non mi ricordo cioè che arriva gli altri erano no gli altri siamo noi era tipo il pezzo di Sanremo i trioli Morandi Ruggeri Tozzi dove mancava i click siccome noi dovevamo suonare sulle voci perché Fiorello doveva fare il verso a tutte e tre quindi non c'era il click allora orchestra tutta ferma registro fermo tutti fermi e io scusami avevo suonato quel pezzo io perlomeno il migliore cosa l'avevo fatto in quel pezzo prendo un campanaccio e poi clic sotto e tutta l'orchestra è strabiliata cioè dice ma questo e arrivò il registro ma io non mi ho visto fare una roba già però quando poi arriva la minella e ti porti le spartiglie di cabaret e io dice vabbè ciao la prima cosa fu un disastro cioè imbarazzo perché veramente cioè era una roba che io non ero preparato a fare una roba del genere quindi poi piano piano ti abituì studi e poi quando arrivò a Bublé che eravamo in fermento tre trasmissioni o due trasmissioni dopo feci quel pezzo lì che si riceveva prima e venne Bublé a fare i complimenti quindi cioè voglio dire dipende sempre però è questo il bello di questo lavoro cioè è come quando entri dentro uno studio e tu ti arriva una parte di batteria o comunque aperta e chiusa parentesi a me parte di batteria nei dischi non mi sono mai arrivati per esempio e quelle poi mi sono arrivate e le ho contestate perché erano veramente fatte con i piedi o con le drum machine che ci volevano forse terribuzzi che poi non c'entravano neanche nel contesto della batteria e della canzone cioè non c'entrava niente e quindi è successo anche quello e grazie a Dio l'abbiamo sfangata ma sempre ritornando al discorso alle trasmissioni e il discorso si faceva prima dei cambiamenti e certo non devi stare ancorato a certe cose cioè tu hai citato una cosa prima nei dischi di Raph in Cannibali io ho cambiato tutti i giorni ma alzavo la mattina prima entravo in studio e cambiavo le pelli e tutta la batteria perché mi era preso questa fissazione di provare le pelli ma tipo io un pezzo credo l'abbia sonato con le diplomate un altro pezzo l'empero un altro pezzo l'ambassador un altro pezzo forse un emas quelle blu collo cioè di tutti mi hanno preso per pazzo perché dicevo questo è matto lasciamolo fare come erano erano gli anni erano gli anni che c'era budget che potevi andare in studio stare lì e dire cambiamo tutte le pelli e proviamo a suonare no ma guarda ma non è sì ma non è il fatto dei budget sì ma non è il fatto dei budget il fatto è comunque cioè rimanevi sulle scatole anche allora così poi si sperimentava per l'amor del cielo perché comunque gira e rigira poi capisci che non è neanche lì il segreto il segreto è un altro il segreto è capire cosa devi fare a livello di accompagnamento in una canzone che è quello che mi interessa mi interessa di fare se tu vai a vedere più o meno sì c'è lo splash fatto in un certo modo c'è il tom fatto in un certo modo ma perché era inerente al discorso allora una cosa pazzesca è per esempio tanti dischi ho fatto non c'era il testo in italiano quindi c'era il falsi inglese e tu dovevi suonare sui falsi inglesi e spesso e volentieri il falsi inglese era bellissimo cioè c'era veramente cioè ah diceva cazzo mi sembrava di suonare che cavolo so con si sfolfia hai saputo poi dopo arrivai il testo in italiano e spesso e volentieri non era la stessa roba e però le batterie sono rimaste quelle cioè capisci e tu risentivi il pezzo e dici vabbè questo potrebbe essere un singolo invece no non è un singolo questo non è neanche il terzo singolo il quarto il quinto quindi che poi c'è anche l'aspetto che tanti batteristi curano molto anche l'aspetto proprio del suonare in funzione del testo è una cosa che mi è stata detta da diversi batteristi mi ricordo Elio Rivagli ad esempio anche Maurizio del Lazzaretti cioè quindi avere il testo finito è importante per la citavamo Franz Di Ciocio mi pare con Roberto Gualdi che lui faceva i pezzi di Battisti e trovava le soluzioni in funzione cioè è pazzesco quindi chiaramente magari lavorando sulle preproduzioni senti ti leggo un po' di commenti anche ti leggo dimmi finisci in 30 ce ne sono talmente tanti qualcuno te lo devo far passare anche un po' di complimenti molti parlano del tuo suono ti chiedono consigli sul suono ti fanno vai 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 avanti vai avanti certo no no voglio dire la cosa importante secondo me è comunque come quando ho fatto le trasmissioni io ho avuto la fortuna di essere forse il primo dopo tanti anni a parte i festival di Sanremo degli anni 90 ma a ritornare in trasmissione con l'orchestra che non è l'orchestra della Rai la trasmissione di Morandi che è del 99 è stata la prima trasmissione ora io vedo in questi giorni c'è Fiorella che sta facendo quella cosa lì tra l'altro non abbiamo dei musicisti bravissimi cioè noi nel 99 abbiamo fatto quella roba lì con i pezzi di Morandi con gli ospiti e sono venuti tutti era la prima trasmissione dove veramente si suonava 25 pezzi a puntata e ti garantisco era dura perché non è come uno spettacolo di varietà che c'è la battuta c'è il monologo poi arriva l'ospite arriva l'attore cioè lì c'era uno dietro l'altro e non era registrata lì era in diretta quella non era registrata quella era in diretta quindi se tuppavi lì ci va a rivederci grazie e anche quella è stata una bella esperienza e anche lì ho avuto la fortuna di avere un tecnico di suono pazzesco che è Finetti che Morandi aveva chiamato Finetti al messaggio e si sente perché ha un suono pazzesco la trasmissione cioè come adesso le trasmissioni ultime c'è Ugo Tempesta insomma noi in Italia abbiamo veramente questo va detto perché 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 tanti non lo sanno noi abbiamo dei ragazzi e dei tecnici nel suono che veramente fanno paura cioè veramente sono preparati ma non hanno niente a che a invidiare con 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 gli stranieri a parte casi vabbè se prendi che cavolo ne so ora Zucchero cioè i tecnici sono in Floyd vabbè grazie però voglio dire nella stragrande maggioranza sono veramente forti ma anche quelli che stanno sul palco e si fanno un grande mazzo cioè comunque i conici devono essere sempre amici del batterista eh ce l'ho ce l'ho guarda ce l'ho volevo tirare ben fuori questo libro qui questo allora no no ma non è non è per fare pubblicità perché no no ma facciamola pure perché è molto bello spiega in sintesi cos'è e perché l'hai fatto spiega in sintesi ma non è questo ma guarda io l'ho fatto dopo la torne mondiale di Laura Pausini perché infatti non c'avevi tempo anche per pensarlo e tutto cioè mi sono reso conto che tanti ragazzi magari che avevano dei problemi in studio o che si volevano fare uno studiettino a casa stiamo parlando di un metodo che è del 2007 mi sembra no scusami sì eh sì l'ho fatto dieci anni dopo sì che cavolo sto a dire è un migliore dove andrà questa roba adesso ci guardo è del 2007 sì io lì prendevo appunti nel tour di Laura 2007 sì è del 2007 prendevo appunti e poi dopo esatto ho coinvolto poi tutte queste persone mi sono messo e l'abbiamo fatto per risolvere i problemi più perché si sentiva le leggende no perché in studio bisogna fare bisogna dire io ho avuto la fortuna e qui lo ripeto nuovamente di avere a che fare sempre con delle persone pazzesche a di là della regia ma non solo anche a livello di produzione quindi tecnici del suono e produttori bravissimi e lì piano piano tipo cioè come quando ho fatto il disco di Laura e c'era il tecnici il foro inglese il tecnici del suono inglese mi diceva guarda che aveva registrato il Beatles cioè capito metti questa cosa metti questo perché lì loro facevano così oppure fai questo allora lì l'ho messo tutti lì quelle robe lì cioè come quando andavo ai morning d'accanto e mi diceva guarda oh ma qui stop così cioè è il posizionamento dei microfoni che deve funzionare e poi dopo quello chiaramente lo fanno loro però se tu lavori a questi livelli qua non ci sarà mai nessuno che ti dice sposta il microfono per favore se adattano a come a quella che è la tua posizione cioè uno delle cose madornali che c'è lo sappiamo è il microfono è rullante perché ti va a beccare i charles sono deliri allora se tu lavori con questi si adattano cioè lo sanno loro come fare cioè non è che ti spostano il microfono capito no perché il tuo modo di suonare è quello cioè quindi non vanno a intaccare quello che è il tuo modo la tua impostazione è come se ti era il pianista gli sposti tre tasti cioè come fai cioè arriva lì no capisci perché spesso la gente queste cose qui non le sa ma è così allora Massimo aspetta che lo faccio vedere questo è The Drumming Business for Leisure and Pleasure anche se il titolo è in inglese il libro è assolutamente in italiano è una guida all'utilizzo c'è un po' di tutto è un piccolo bigino della batteria lo possiamo chiamare dentro tutto quello che devi sapere microfoni riprese c'è molto molto legato anche alla parte della registrazione nel posizionamento molto carino senti dimmi solo se uno lo vuole dove lo trova lo trova sull'innovazione online o deve scrivere a te se ovi scrive a me o se lo credo ce l'abbia anche il soprano ce l'hanno credo anche loro o se no scrive a me quindi o su facebook o se no il tuo sito che è massimopacciani.com allora aspetta un secondo siamo arrivati all'ora ora non ti voglio mandare a casa chiaramente però ti voglio leggere un po' di domande ma prima ti voglio far vedere un altro video piccolino di un tuo collaboratore sei pronto? via ciao Corrado sono Marco Falagiani un autore, compositore arrangiatore e produttore di musica pop e di colonne sonore di massimo ricordo molte cose che abbiamo fatto insieme e le sue grandissime qualità sono una grande singolare creatività ed anche una sensibilità nell'entrare con il giusto con la giusta dimensione nelle cose che fa infatti a massimo non devi mai dire quello che deve fare non importa è lui anzi che ti propone soluzioni tutte sempre sempre belle ed appropriate e poi insieme si decide quale attuare poi insieme abbiamo fatto il film mediterraneo la colonna sonora del film mediterraneo altre cose come gli altri siamo noi di Tozzi come il cielo della vergine sempre di Masini mi auguro semplicemente di poter fare con lui ancora tante cose belle come abbiamo fatto negli anni scorsi ciao Corrado ciao Massimo che carino ho trovato qualche tuo amico qualche tuo collaboratore storico senti ne approfitto per questo mini break per cominciare a leggerti un po' di domande se tu sei d'accordo perché insomma i ragazzi aspettano allora ti leggo intanto qualche commento relativo al suono Mario dice Vallesi secondo disco ogni brano un sound diverso bella ricerca sonica di Massimo Sara chiede un po' di discografia poi Sara va bene molte le abbiamo già dette nel corso della puntata ma se non sbaglio tu hai fatto più di 200 dischi quindi se poi recuperiamo un pdf o qualcosa se c'è nel tuo sito ti dico Sara che comunque Massimo ha registrato dei pezzi che sicuramente nella vita hai ascoltato ancora il tuo suono di rullante è riconoscibilissimo ma questa è questa tua ricerca che fa parte di tutto quello che hai detto Irene Grandi quando hai suonato cos'hai registrato con Irene Grandi che in quegli anni spaccava tutto proprio in quegli anni la facevi all'arione 10 le facevi lì Irene Grandi no abbiamo fatto a Modena lo studio Sant'Anna di Modena cioè lì abbiamo il primo disco di Motivo Maledetto in Vacanza da una Vita quelle robe lì ah pensa te che in un disco di Irene Grandi e mi scappa da ridere perché qui scusami ma poi capirai perché cioè io sono un pezzo delle spazzole Sheila e ha le percussioni cioè non ti dico altro guarda Sheila I c'era si capite quindi cioè voglio dire vedi te la vita come a volte ti porta da 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 ognuno è figlio del suo tempo c'è niente da fare cioè tu parti a 15 anni a suonare su un parco e poi dopo ti ritrovi capito con questi qua che mai avresti pensato cioè la cosa bella di questo lavoro è questo cioè non è che e poi quando li trovi o comunque hai modo di 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 parlarci così ti rendi veramente conto che non cioè io non so se l'hai visto io mi sono visto un video di David Grohl dove produce si no no che praticamente lui compra il banco livelli da quello lì arriva a un certo punto si chiama esatto fai il pezzo di di Paul McCartney ok arriva Paul McCartney in studio e lui chiaramente si caga sotto cioè mi immagino e lui a un certo punto e Paul si gira a un certo punto e gli fa ma è così semplice capito e Paul si rigira gli fa sì deve essere così è semplice bisogna divertirsi cioè questo è l'essenza cioè io quando ho visto tante cose per esempio mi sono appassionato e molti questa cosa qui l'hanno vista o comunque quando nel 2000 2003 mi sembra ho fatto quattro anni di Viva Radio 2 con Fiorello dopo le trasmissioni abbiamo fatto e quindi anche lì cioè io tieni conto lì ho suonato con il cantante Simply Red con il Zucchero ho fatto il Serti Dog e un pezzo a me mi fa impazzire cioè ho suonato anche lì con De Grigori ma con tutti sono lì allora con Venditti Dalla cioè a un certo punto la mattina arrivavamo lì prima e partì Derry Old Derry Old e John Lewis partì a fare questa cosa qui su internet di concerti live della sua casa e io mi appassionai lì e mi sono visto tutte le serie cioè di questi musicisti arrivavano lì la mattina era un po' in piccolo per l'amor del cielo che lo facevamo in quel momento cioè nella serie arriva l'ospite suoni e via e si va in onda dopo ho preso la fissazione per Danella Noir che è il produttore di O2 cioè vuol dire che anche lui fa un sacco di produzione e lì è un altro modo di vedere le cose e mi sono appassionato a questo termine che lui usa sempre che è il caos musicale allora sul caos musicale io voglio spendere due parole perché su questo c'è l'essenza di quello che penso io tu puoi registrare una batteria bene cioè ogni microfono su ogni pezzo fai le cose bellissime per l'amor del cielo però non c'è il sound e la batteria non ha quel sound lì che se tu sei in mezzo a una stanza e suoni insieme a 5 6 musicisti quello è un suono che è irricreabile cioè mentre quella batteria lì la ricrei perché comunque vai in uno studio ma la puoi ricreare i sound che fanno 5 musicisti e suoni insieme non lo ricrei questo è uno dei motivi per cui a mio avviso mio modesto avviso oggi i dischi sono a tutto uguale perché comunque è talmente tutto così preconfezionato che diventa una roba che la puoi fare te la posso fare io la puoi fare un altro cambia il modo certamente io sono in un modo o do delle misure della batteria in un altro modo però il caos musicale tipo questo nasce fuori da un disco di Bob Dylan che si chiama Oh Mercy che loro fanno a New Orleans dove praticamente fanno le sessioni solo di notte e lì c'è un sacco di musicisti fra cui Brian Blade che esce fuori anche da lì nel pop che sono tipo due batteristi tre batteristi suonano insieme e il disco di Bob Dylan è fatto in quel modo lì e c'è un suono che è pazzesco cioè capisci io credo in quel modo lì di fare musica non nel modo con i computer che pigi e suoni sopra la base che io mentre ho una depressione io non ho iniziato a suonare per fare quelle robe lì quindi io il consiglio che posso dare ragazzi è studiate in quel modo lì perché è utile ma suonatene un altro questo sì c'è anche questo commento che ti leggo non ci dice il nome perché arriva dal gruppo facebook dice sei talmente preciso e meticoloso nella ricerca del suono che una volta ho letto un tuo articolo in cui snobbavi altamente il montaggio dei microfoni sui rims dei tom perché la vibrazione del tom stesso altera il suono soluzioni i microfoni rigorosamente sulle aste sì assolutamente sì e su questo te ne dico un'altra io sono stato uno dei primi anche lì alle 90 perché sono sempre curioso non perché sono il più bravo perché sono curioso cioè a presente ora mi ricordo il nome come si chiamava il braccio che metti dentro la cassa no che praticamente il microfono interno c'era lo shu come si chiama quello che lo metti proprio dentro la fusta no quello è la versione già successiva qui stiamo parlando degli anni 90 per cui mi ricordo l'avevo a Mocca a Firenze e l'ho presi lì era una roba simile a quello lì che mettevi dentro allora io mi ricordo proprio Irene Grandi perché poi praticamente io ero un tournée con Irene Grandi e Irene quella sera lì venne Pino Daniele a sentire c'era Dato Parisini il produttore perché comunque poi dopo lei avrebbe fatto il pezzo con Pino Daniele no mi ricordo come si chiama che tra l'altro quel pezzo dice Manu Caccia e cosa succede? non si vedeva il microfono cioè tu non vedevi il microfono tu eri abituato a vedere il microfono dalla casa e lui non ti vedevi nulla e lui si era fissato e c'è scritto anche sul libro mi sembra di averla scritta che io avessi la cassa campionata in realtà non è una cassa campionata c'è il microfono dentro per cui capito è fatto della curiosità ancora oggi e questa è un'altra cosa che io dico nel libro ma che l'ho sempre pensato e sempre la penserò tu entri in un negozio prendi un rullante vedi un rullante che costa magari 50 euro lo compri cambi la cordiera metti due pelli nuove ti diventi un rullante in più che hai in più e che ti può servire cioè si parla di rene grandi ok motivo maledetto tieni conto io allora andavo in studio con 10 rullanti no con uno con 10 e cioè quello più scrauso di tutti era proprio quel rullante lì che ho usato il motivo maledetto che era un Dixon da 100.000 lire lo stanno facendo ancora oggi ma è quello di 13 ma allora vedi io allora praticamente tu hai già risposto alla mia ultima domanda che era la domanda sul rullante cioè se devi fare il disco della vita domani che rullante ti porti in studio la tua risposta è tutti e nessuno o ce n'hai uno dai dimmelo no guarda allora io credo che il rullante deve portare in studio e sono qui le mani perché sono quelle e questo e l'orecchio certo dipende sempre da quello che devi fare io personalmente cioè porterei un Pioneer forse l'ho anche detto un Pioneer 6 e mezzo del 1920 capito perché comunque quello fai tutto cioè legno e metallo no 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 metallo 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 sì sì così fai diventare matti i tecnici del suono ma lì il divertente è quello lo sai ma questa nota ma perché non la levi e io la facevo apposta ma ancora adesso glielo faccio perché comunque se il tuo modo di suonare è quello lì gli aiuti perché comunque gli deve aiutare cioè non è che puoi fare sempre la guerra però adesso siccome siamo in questo momento un po' storico strano cioè la figura del produttore non c'è più ma guarda la figura del produttore era determinante perché era quello che faceva tramite il freno musicista l'artista il tecnico del suono non avendo più quello i tecnici del suono o sono produttori e allora fanno esattamente quello che vogliono loro ma non mi sembra aver visto in Italia a me molti Alan Parson o robe del genere quindi c'è a parte pochi quindi sai il problema è quello forse uno dei pochi è Fofo perché comunque Fofo è sia musicista sia capito sia tecnico del suono ma è oltre uno c'ha basta andare a sentire cioè io ho visto un sacco di noncetti di Fofo anche di Elio cioè sentiva benissimo che cavolo gli vai a dire è quella alla fine la forza è quella lì no cioè l'importante è quello senti Massimo in teoria ti volevo tenere la domanda quella del rullante alla fine però te ne voglio chiedere ancora una prima di lasciarti perché stiamo già andando oltre i limiti consentiti dal mio canale YouTube no ho deciso io di non sforare esageratamente una cosa perché se no mi dimentico io ci tengo e partirò in modo di questo oggi era il compleanno è il compleanno di un amico in qualche modo di un collega che non c'è più ormai da te che è Beppe Gemelli che Beppe Gemelli per me è stato veramente a di là di una persona squisita lui è il suo fratello per l'amore del cielo e poi era veramente uno dei battitori italiani che io ho sempre amato in modo particolare perché l'ho sempre visto suonare in un certo modo con un gusto pazzesco con un suono pazzesco mai fuori posto nelle cose che faceva un Charleston un micidiale veramente un high hat che lui suonava con la mano aperta con la sinistra già nei volpini volanti facevano paura che poi fra l'altro un disco show quello dei volpini volanti che veramente era una roba cioè Beppe l'ho sempre nel cuore aperto è chiusa grazie grazie hai fatto benissimo ho visto oggi un posto di Paolo Cori abbiamo parlato tantissimo vabbè chiaramente del tuo percorso della discografia molto lavoro con gli artisti però a me piacerebbe farti anche una domanda sull'aspetto didattico tanto per chiudere per dire so che tu insegni quindi che approccio hai se ti piace come molti ragazzi chiedono scuole insegnanti privati conservatori tu per l'esperienza che hai mi dici secondo te un ragazzo oggi che tipo di percorso dovrebbe intraprendere didatticamente se conta più l'insegnante la struttura i libri dimmi la tua sulla didattica in generale ma io credo che studiare fa sempre bene cioè vuol dire anche per non ritrovarsi appunto per non tornare sempre lì come sono trovato io poi spiazzato perché ti arriva delle cose e non sei preparato a leggere quindi la lettura al di là della creatività abbinata a tutte e due le cose credo allora da un punto di vista dei conservatori secondo me sì perché comunque il conservatorio ti dà una visuale specialmente poi io ho di Gia Devi uno particolare bravissimo tra l'altro che studia al conservatorio a Firenze fa percussioni e quindi gli permette anche di fare i pianoforti di studiare l'armonia e quindi non gli fa altro che bene dei conservatori credo che dovrebbero avere al di là degli insegnanti e tanti conservatori ce l'hanno veramente che fanno differenza e grazie a Dio questa cosa qui piano piano poi sta uscendo fuori anche perché si stanno attrezzando piano piano e quindi è normale ma soprattutto avere dei testi uniformi cioè è impossibile che uno studia a Catania abbia dei testi didattici diversi da uno e prende un triennio a Milano o a Roma o a Occhis da qualche altra parte quindi questo la vedo cioè come anche perché chi fa pianoforte in conservatorio quelli sono i metodi e quelli studia cioè non è che c'è a Milano fanno una roba e a Roma ne fanno un'altra punto primo punto secondo come insegno io credo che i ragazzi o anche chi lo fa per come ti posso dire per hobby o perché si vuole accostare avere una visione anche non solo didattica ma anche tipo io ho anche dei ragazzi che hanno delle delle difficoltà motori per cui usare i quattro arti non gli fa altro che meno e quindi credo di sì credo che bisogna capire e capire quello che vogliono fare in base a quello insegnare per esempio io non insegnarò mai jazz o perlomeno non avrò mai la presunzione di fare quelle robe gli potrò consigliare andare batteristi bravi ce ne sono tanti grazie a Dio in Italia che fanno questa specie di questo modo di insegnare che è totalmente diverso anche se poi sembra uguale ma è diverso è diverso perché accompagnare una canzone è di là che se va a vedere bene ti dirai va bene ma Brian Blade l'accompagna sì va bene ok Brian Blade è Brian Blade cioè capito lasciamo perdere va da John Emiche la Ciccorea a chi ne ha più ne metta diciamo sì io considererei di andare da tutta una serie di insegnanti e poi capire più o meno cosa vuoi fare e andare avanti nel percorso che comunque è un percorso di curiosità internet dà questa possibilità allora e poi chiudo il discorso cioè noi negli anni 70 avevamo una un settimanale che si chiamava CIO 2001 dove c'era Michel Pergolani da Londra e c'era Armando Gallo da New York per noi quello era il nostro internet se usciva un disco lo sapevi da lì cioè se usciva qualcosa dovevi comprarti in quel giornale lì che parlava di musica adesso abbiamo un'infinità di informazione sfruttiamola bene ma sfruttiamola ecco questo sì io credo in questo grande Massimo guarda da questa chiacchierata io mi porto a casa questi concetti che io sono musicista molto aperto con la mente che guarda avanti che non che non come dire non schifa quello che c'è oggi quello che è diventata la musica oggi o lavoro oggi e questo secondo me dà una visione anche perché i ragazzi sono molto sfiduciati soprattutto i batteristi nel nostro mestiere perché vedi sempre la batteria sempre meno presente però tu hai parlato oltre al tuo percorso e quindi prendere esempio dalla tua creatività dal tuo cercare sempre di essere un po' indipendente da certi sistemi e cercare di imporre il tuo stile mi è piaciuto molto anche quel passaggio dove tu consigli determinate strategie anche per essere visti essere conosciuti a livello volendo anche internazionale perché i social network oggi ti danno questo tipo di accesso il tuo approccio alla musica in generale tu sei anche autore quindi giustamente consigli di studiare altri strumenti insomma io stesso vabbè ho già parlato con te tante volte il telefono quindi insomma facciamo sempre delle telefonate anche più lunghe delle interviste perché io ti tengo lì ascolto e annoto mentalmente spero che anche per tutti i ragazzi che ci stanno seguendo siamo tanti devo dire siamo veramente tanti tu sia riuscito a lasciare la stessa impressione che hai lasciato a me metterò nelle note ragazzi poi metterò nelle note un po' di cose su Massimo i suoi social il suo sito il pdf con la sua discografia per quanto possibile e ti invito come faccio sempre con gli artisti del tuo livello che hanno fatto che hanno avuto la bravura e oltre alla fortuna di poter lavorare così in quegli anni d'oro della discografia fatevi ste playlist di Spotify di Apple Music condividete la vostra roba perché quello che chiedeva mi pare Sara prima se io voglio conoscere giustamente tu dici ma non suonate come noi certo cioè noi abbiamo già fatto solo guardate avanti però dici anche però se non capisci che c'è stato prima cioè non puoi non puoi andare avanti credo che mettere insieme 50 100 150 brani migliori che meglio ti rappresentano credo che ognuno di noi potrebbe dire cacchio senti che roba essere ancora più ispirato quindi trova un tuo allievo faglielo fare e ricordo ancora il tuo libro ragazzi il tuo libro è questo The Drumming Business for Leisure and Pleasure Massimo Pacciani Senti io ti ringrazio molto veramente è stata una chiacchierata strabella spero che voglio fare un'altra cosa con te in futuro e altri tuoi colleghi batteristi verrò lì in Toscana a farmi una mangiata c'è già un piano d'accordo poi andiamo da Sting a rompere le scato bravo andiamo a fare un po' di every breath you take Massimo un abbraccione grazie ragazzi a tutti veramente grazie grazie